Abruzzo libero dalle dipendenze. E' questo lo slogan scelto dal gruppo regionale di Fratelli d'Italia per promuovere la proposta di legge che introduce interventi per la prevenzione e la tutela della salute dalle dipendenze da droga, alcol, fumo e gioco d'azzardo. Il provvedimento è stato presentato questo pomeriggio all'Aquila dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Guerrino Testa e Mario Quaglieri, dal coordinatore abruzzese del partito, Eten Siggismondi e dall'onorevole Maria Teresa Bellucci, componente della Commissione Parlamentare Affari Sociali. Testa introduce le novità che deriveranno dall'eventuale applicazione della norma e apre al confronto politico. Fratelli d'Italia per la prima volta presenta un progetto di legge contro tutte le dipendenze che possono diventare patologiche, quindi dalla dipendenza alla droga, all'alcol, al tabagismo, agli strumenti come internet, network, contro la ludopatia. Quindi noi per la prima volta presenteremo questo progetto di legge che poi in Commissione potrà essere emendato, migliorato, troverà sicuramente il confronto con i portatori di interesse perché vogliamo predisporre una legge definitiva che vada a mettere al centro della propria attenzione, il proprio interesse, la persona e la salute pubblica. L'onorevole Bellucci entra nel dettaglio del provvedimento e spiega gli strumenti che si intende a utilizzare per contrastare le dipendenze. Fratelli d'Italia vuole liberare le persone dalle dipendenze, vuole renderle libere, non schiave. E per questo ci mette tutta la propria determinazione e la propria volontà. Ci sono vari punti, li vedete anche qui in questo riassunto. C'è innanzitutto l'idea di creare un osservatorio, quindi un punto per fare un'analisi della situazione delle dipendenze in Abruzzo. C'è l'intenzione di poter supportare i servizi, gli operatori che si occupano dei dipendenze, sia del pubblico che del privato sociale che in questi anni hanno fatto sicuramente tanto per cercare di aiutare le persone a liberarsi dalle dipendenze. C'è la volontà di aiutare gli esercenti, quelli più etici, che propongono un'impresa etica, dove comunque cercano di andare avanti in Abruzzo senza l'utilizzo magari delle slot machine, ma proponendo comunque un servizio puntuare della città. C'è la voglia e l'intenzione anche di liberare l'Abruzzo dalla problematica del tabaggismo. Sappiamo che è la prima mortalità e anche per questo quindi si danno servizi, opportunità e anche indicazioni in maniera tale che nei luoghi pubblici si è escluso l'utilizzo del fumo e quindi poi la problematica anche del fumo passivo per gli altri.